C'era scritto porto, ma... Adesso non ti arrabbiare Non c'è un po' da fuori, ma c'è questo? E vi messi nella marina e stiamo in grado Perfetto In 600 metri Perfetto Perfetto In questo mare è lì Perciò Perfetto S'è un po' da qua C'è 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 un po' da qua D'altro C'è un po' di C'è un po' di In all delle persone qui Sì, qui vivono quasi in inglese. Ok, si prendono il giocatore, non si prendono il giocatore. Ok, ok. Ok, ok. Lo stiamo facendo. Cosa hai scritto per una nuova? 15? Per il prossimo, per il prossimo. Eccoci la scena di malattica Cos'è l'esce il suo pollo di malattico e l'esce il suo pollo di malattico E ora? E ora? E ora? Per il prossimo settimo settimo Alla fine della strada, girate a sinistra. Dammi l'occhiale. Non lo mettere qua. Dammi qua, dammi. Piano, piano. Sprecchis a qui? Questo è niente di passare. Il mare è lì? Giusto siamo. Quattro chilometri per farlo. Questo è vero. Quello che ho messo io. Ma è giusto, è giusto. Hai stop con me qua, prima che... Ho fatto niente così. Ho fatto niente così. Ho fatto niente così. Ho fatto stop per stop. Non sono un po' di calla. Alla fine. Ho fatto niente. Un po' di calla. Hai un po' di calla. Alaschere, questo è davvero bello, meglio che il tedesco. Grazie. Ma se io abbia tanto tempo come le persone qui, io sarei anche cominciato. Grazie, al lavoro mediciano, tipico italiano, ma è schlappi. Ho fatto mia lavoro, ma non ho mai sentito. Alla fine della strada, girate a sinistra. Poi c'è qualche insegna Genova-Palermo, ma questo si vede forse. Questa è via Messina Marina, e poi c'è questo posto. Allora, via Messina, via Messina Marina, si lo so, tu guarda lì. Di qua è vuoto ancora, ma adesso comincerò a venire la macchina. Vabbè, è uguale, tu guardi lì.